Weylac a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra Master League su PS6, patch 2022 con il nostro Parma Calcio. Questo sarà un episodio di passaggio, un po' più leggero rispetto all'ultimo in cui abbiamo battuto il Barcellona e abbiamo conquistato la semifinale di Champions League. Qua invece affronteremo Venezia, Roma e Della Sverona, tutte e tre partite di campionato in cui in questo momento siamo a più 7 dal Milan e a più 9 sul Napoli. Quindi abbiamo un buon margine sulla seconda e sulla terza, proviamo a mantenerlo anche in queste tre partite, nonostante adesso comunque la stanchezza comincerà a farsi un po' sentire di più. Ecco, però buttiamoci subito in questa prima partita contro il Venezia che all'andata quando l'abbiamo affrontata era mi pare quarto o quinto, adesso dovrebbe essere un po' più dietro in classifica. Eccoci qua ragazzi, allora gioca Dragosin vicino a Denier, gioca anche Espimaz davanti con Iconè e il viking Amsun, diamogli fiducia e facciamo ancora un po' riposare, o almeno ci proviamo, il nostro bomber Scamacca. Venezia-Parma, 22esima giornata di Serie A. Vediamo un po' dove è finito il Venezia in classifica, sono curioso, è scalato in ottava posizione ma comunque sta facendo un gran campionato. Mentre invece noi dobbiamo cercare di mantenere il vantaggio sul Milan. Venezia addirittura è sopra la Juventus, sopra l'Atalanta, quindi sta facendo un grandissimo campionato. Inquadrato il capitano Ampadu, per il Parma invece il capitano sarà Imelez, autore di una grande stagione, forse della migliore stagione da quando è al Parma. E' tutto pronto, partita che può comunque nascondere tante insidie, si parte. Icone batte, c'è Amsun, che anticipa tutti ma non riesce a spedire verso la porta coperta da Menpa, che ha spazio per andare, c'è il movimento di Nani sulla destra. Chiede 1-2, Fjordilino, palla dentro, Dragusin. Grande chiusura, chiude tutto. Poi si appoggia Ricci, che prova a ripartire, c'è ancora Fjordilino, scambia con Quisans. Attenzione ad Aramu, Mattia Aramu davanti alla porta, che parata! Che parata di qua Musso, il miracolo! Ed è per questo motivo che abbiamo comprato Musso, questa è una parata strepitosa. Si distende benissimo sulla sua sinistra, ma adesso c'è calcio d'angolo per il Venezia, che sta giocando molto bene in questo avvio di partita. Bisogno di un appoggio, c'è Imelez. Imelez, palla dentro, illuminante per Icone, Icone alto! Bellissimo il passaggio di Imelez, in profondità per Icone, che sul suo piede preferito al sinistro non è riuscito a concludere efficacemente. Quisans vede Fjordilino, c'è sulla destra tutto solo Nani, che ha tanto spazio per puntare. Fjordilino chiede 1-2, arriva il cross dentro, il colpo di testa! E arriva addirittura l'1-0 del Venezia, col colpo di testa di Occhereche, imparabile per Musso questa volta. Bellissima azione anche questa del Venezia, che ha cominciato veramente con il Pio giusto, non chiudendosi nella sua metà campo come poteva fare, ma offrendo un calcio molto propositivo. Qua Denayer non arriva al rinvio di testa. Ottimo il cross di Nani, che mette la palla sulla testa di Occhereche, si stacca dalla marcatura e mette dove Musso non può proprio arrivare. E allora 1-0 Venezia, meritato. Mette ordine Ricci, quando siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, subisce fallo Ricci. Icone, Icone, dentro per Espimas, Espimas parata di Menpa! Grande occasione per il pareggio del Parma. Espimas si era trovato in posizione regolare, ma Menpa si è fatto trovare pronto. Finisce qua il primo tempo, col vantaggio meritato del Venezia, che sta giocando una grande partita offensiva, ma anche difensivamente, sta tenendo bene. 1-0 Venezia, si riparte da questo risultato, col Parma, che deve provare quantomeno a trovare il pareggio. Attenzione ad Aramu, palla dentro, pericolosa, Sigurdsson, alle stelle. Arrivano i cambi, entra Scamacca per provare a cambiarla, ed entra anche Macco a centrocampo al posto di Melec. Chiuso, non c'è spazio per il cross, ora Molina, dentro per Ricci, il colpo di testa, Parma, Menpa. Vediamo se Molina riesce a mettere una buona palla dentro per Scamacca! Anticipato con un grande intervento difensivo del Venezia. Il Venezia sta tenendo questo vantaggio incredibile. Attenzione, perché adesso c'è Scamacca che prova ad andare pieno in fondo. Grande chiusura difensiva, ancora Scamacca! Scamacca! Non ce n'è per nessuno con Gianluca Scamacca. Vince il rimpallo e poi va fino in fondo. Stavolta Menpa non riesce ad evitare il gol del pareggio dei giallo-blu. Era stata buona la chiusura difensiva del Venezia con Ebuei, credo fosse. Però poi Scamacca recupera palla con violenza, con forza e va a tirare una sberla incrociata. Menpa, preso anche un po' in controtempo, non può nulla. E allora 1-1 arriva il pareggio tanto sperato del Parma quando siamo all'ottantesimo minuto. Mazzurri prova a mettere fuori e non riesce ad arrivare. Attenzione a Occhereke. Occhereke al limite dell'area. Palla dentro, lunga. Colpo di testa, palo! Palo incredibile del Venezia. E finisce qua, sul brivido per il Parma. Si chiude. Venezia-Parma. 1-1. Risultato forse più giusto, ma forse sta anche un po' stretto al Venezia. E allora ragazzi, quello che è successo è che siamo rimasti a più 7. Abbastanza incredibile. Il Napoli ha vinto, quindi ha guadagnato due punti e è tornato... Diciamo ha pari punti col Milan secondo, però il Milan non ha guadagnato due punti su di noi. Questo è già un gran risultato. Diciamo che questo non sappiamo se effettivamente sia una volontà del gioco di favorirci quando noi perdiamo punti. Però possiamo andare a vedere che il Milan ha pareggiato in realtà con l'Atalanta, quindi una squadra forte, ma che in questo momento in campionato non sta andando bene. E' anche vero che noi abbiamo pareggiato col Venezia, quindi alla fine ci può stare. Andiamo allora subito alla partita contro la Roma. Cercando questa volta di vincerla. Siamo in casa, ma la Roma è una squadra per noi sempre abbastanza ostica. Ragazzi, come voleva si dimostrare, la stanchezza adesso comincia a diventare un po' un fattore. Infatti Scamacca è stanco, Denayer è stanco, Kulibaly, i Mellets sono tutti stanchi, anche i Conè. Quindi qua dobbiamo fare qualche cambio. Questi sono cambi obbligati, gioca Amsun, gioca Spimas, gioca Yuga, Mark Lenders, anche Dodo a centrocampo. E confermato Dragusin per la difesa, stavolta per dare il cambio a Denayer. Insomma, i giocatori cominciano ad essere stanchi, abbiamo bisogno adesso delle seconde linee e che facciano al meglio il loro ruolo in questa stagione. Parma contro Roma, è la ventitresima giornata di Serie A. Vediamo la Roma anche come si sta comportando in questa stagione. Ci sono tanti punti di differenza, quasi venti punti di differenza. La Roma però è quarta, quindi pensate un po', siamo in fuga. Perché tra noi e la Roma ci sono solo tre posizioni, ma in realtà i punti sono tantissimi di distacco. I giocatori salutano il loro pubblico che è pronto a supportarli. In un momento in cui in campionato stiamo perdendo effettivamente qualche punto di troppo, ma per fortuna finora non abbiamo pagato Dazio, visto che le nostre dirette concorrenti stanno anch'esse perdendo punti. In un momento della stagione in cui si giocano tante partite importanti nelle coppe e quindi c'è un po' di stanchezza. Al via la partita, riesce a recuperare palla. Attenzione a Espimass. Ricci, vede dentro, Burshe, palla illuminante, Burshe! Dove l'ha buttata, Flebbo? Che pallonetto è, Flebbo? Per Espimass, palla di ritorno ancora per Flebbo, che prova a difenderla, ma viene fermato, era cerchiato, adesso fa il laccio di Burshe sui Bagnez. Oggi è cattivo Flebbo. Certo, i piedi sono sempre quelli, e l'ha dimostrato, però è cattivo oggi. Perde palla la Roma in fase difensiva. Amsun, il tiro! Esce di pochissimo, il tiro dai 25 metri del vichingo Amsun. Guardate di quanto sfiora il palo. Attenzione perché Bagnez è rimasto infortunato, forse proprio nello scontro con Flebbo Burshe, che non è stato sanzionato dall'arbitro nemmeno con un giallo, ma era molto brutto il fallo. Bravo Flebbo, così, cattivo. Samuele Ricci. Ottima giocata di Burshe, che prova ad allargare per Mazzuray. Mazzuray in uno contro uno, se ne va a Smalling, Mazzuray! Grande azione per lui, il tiro finisce fuori di pochissimo, ma il Parma adesso sta spingendo. La posizione è quasi impossibile, Mazzuray ha quasi trovato il gol dell'1-0, quando siamo al 27esimo minuto. Spinazzola, Veretupalla dentro, Botman chiude col brivido, rimpallo. Era una palla stupenda quella dentro della Roma. Attenzione a Botman che non arriva di testa, e allora può andare Shomurodov, si invola verso la porta, prova a chiudere tutto. Dragusin e poi Musso deve parare sul primo pallo per evitare il gol della Roma. Ottima giocata di Eldor Shomurodov. Va Pellegrini per il calcio d'angolo della Roma, attenzione Zagnolo che anticipa tutti, ma tira alto. Sbaglia tutto Burshe, e qua si chiudono le speranze in questo primo tempo per il Parma. Primo tempo che finisce 0-0, ci sono state tante occasioni per il Parma, che deve provare a sfruttarle meglio. Risultato di 0-0 tra Parma e Roma, partita equilibrata, con occasioni per entrambe le squadre, ma il Parma probabilmente le ha avute più eclatanti. Curibali in profondità per Iconè, vediamo se Veretup arriva a chiudere l'azione. Grande giocata di Iconè, palla dentro, per Ricci, tiro centrale, il rimpallo, attenzione Spimas, calcio di rigore, calcio di rigore per il Parma. Sulla scivolata folle di Kumbulla, chiaramente batte il nostro talismano Curibali. Va Curibali, la parata di Fusato, Curibali ancora! Fusato! Che è successo? Altro calcio di rigore, incredibile quello che sta succedendo. Fusato col doppio miracolo, ma poi ha concesso un altro calcio di rigore per questa scivolata proprio su Curibali. Ancora Curibali, il tiro! Stavolta va in porta. Che brividi, è successo di tutto nell'area di rigore della Roma. Il rigore assegnato, il primo rigore assegnato a Curibali, parato da Fusato. L'area è spinta e il tiro, il tapin di Curibali a botta sicura con una parata mostruosa ancora di Fusato. E poi arriva il fallo, credo ancora tra l'altro di Kumbulla. Proprio sul Curibali, fallo rivedibile quantomeno, molto leggero. Ma comunque è vantaggio Parma. Una situazione folle in area di rigore. Fusato, autore di un doppio miracolo che meritava sicuramente maggior fortuna. Attenzione ad Abram che si gira appena entrato, palla dentro! Colpo di testa incredibile di Pellegrini davanti la porta. Ha tirato alto, bastava appoggiarla con Musso che era uscito fuori tempo. Invece ha tirato una sassata di testa senza senso. Tammi Abram, ma non c'è più tempo. Il Parma vince una partita alquanto fortunata. Fortunata, alquanto fortunata per gli episodi che sono successi in campo. E porta a casa tre punti benedetti. Situazione, dopo la seconda partita, il Milan ha vinto, il Napoli pure. E rimaniamo a più sette. Quindi vedete, quando noi vinciamo, vincono anche gli altri. Quando perdiamo punti, gli altri non vincono. Particolare, sicuramente particolare come situazione. Diamo un'occhiata veloce anche alla classifica a capocannonieri. Con Scamacca immobile a pari gol. Ossimène subito dopo. Assist, invece, il nostro primo è Ricci. Ma ci dovrebbe essere anche Iconè? No, Iconè non c'è. Mightland Niles, addirittura della Roma, ha sei assist. Detto questo, buttiamoci nell'ultima partita di questo episodio contro l'Elas Verona. Ragazzi, io non riesco a capire perché i nostri giocatori, anche facendoli giocare meno quando sono stanchi, non recuperano abbastanza. Infatti, alcuni sono ancora stanchi. Per esempio, lo stesso Scamacca continua ad essere molto stanco e non recuperare, anche se gli facciamo giocare praticamente dieci minuti nelle ultime due partite. E quindi continua ad esserci il vichingo titolare, sperando che si sblocchi con Macco e Castoro davanti. In una situazione abbastanza improvvisata. Questo c'è e questo ci facciamo andare bene. E' tutto pronto per la ventiquattresima di Serie A Team tra Elas Verona e Parma Calcio. Vediamo che l'Elas Verona è al dodicesimo posto e quindi ha bisogno di fare punti se vuole risalire la classifica e sperare in un miglior posizionamento, anche se in realtà la zona poi Europa è molto lontana. Il Parma invece deve continuare a spingere. E' arrivata nell'ultima giornata una vittoria fortunosa contro la Roma, probabilmente anche non troppo meritata. Ma sono stati tre punti importantissimi per tenere a distanza Milan e Napoli che dietro spingono per recuperare, per mangiare, rosicchiare punti al Parma. E' tutto pronto e si parte col fischio dell'arbitro. Va sulla destra per Faroni, palla dentro, troppa arretrata, c'è Veloso. Il tiro al volo col piede debole, il destro che finisce alto ma bella azione del Verona. Mazzorri che torna nel suo ruolo vero, ovvero quello di terzino destro. Mazzorri, entra dentro Mazzorri, tiro, forte ma centrale. Prova a correre Faroni ma sulla sua strada Ruskin. Allora dà in profondità per Barak, palla dentro, Dodo, bucato, qua Musso sul colpo di testa di Simeone. Dodo era sulla palla ma è andato totalmente a vuoto. E allora mannaggia a Dodo, diciamolo forte, tutti insieme perché era un intervento difensivo facile facile, senza pressing. E non si sa come è riuscito totalmente a bucare l'intervento. Bella comunque l'azione del Verona col cross di Barak, preciso per la testa di Simeone che poi giustamente non ha perdonato Musso. Però peccato perché Dodo era ben posizionato e invece non si sa cosa abbia colpito ma non la palla. E allora 1-0 Verona, continuano le difficoltà di questo periodo per il Parma in campionato. Ricci recupera, doppio rimpallo e fischia l'arbitro alla fine di questo primo tempo. Molto equilibrato in cui a fare la differenza è il gol di Simeone sul buco difensivo di Dodo. Il Parma deve cercare di recuperare questa partita che si è messa male e che il Verona sta conducendo per 1-0. Per Amsun, palla dentro per Castolo che si ferma invece di andare in velocità. Supera adesso l'avversario, ne ha tre addosso. Castolo dentro per Amsun, Amsun non riesce a concludere. Fermato incredibilmente, entra Icone per il Vichingo, ancora una volta sotto tono dopo la grandissima prestazione. A Barcellona sono arrivate tre prestazioni non al suo solito livello. Macco in avanti per Castolo che è andato a fare la prima punta. Ancora palla per Macco. Macco il tiro sul primo palo. Arriva la parata sulla grande occasione per Macco. Qua per Icone che prova ad andare, salta Gunter, arriva Tamesi in raddoppio. Icone, grande palla dentro, Macco! Macco! Il gol di Macco! Il pareggio di Macco! Su una mezza papera difensiva del Verona e anche del portiere che non trattiene il colpo di testa debole di Macco su una grande azione per Icone. però di Icone che ha spaccato la partita in due da quando è entrato con le sue accelerazioni. Grande Icone quando la palla sembrava sul fondo è riuscita comunque a metterla dentro. Non riesce a mettere fuori la difesa e poi la parata non è precisa da parte di Montipò. E allora grande pareggio del Parma quando siamo all'ottantesimo. Adesso è entrato anche Scamacca per provare a vincerla. ma attenzione perché il Verona sta giocando una grande partita e probabilmente non ci sta a perderlo, comunque a perdere questi punti che si era finora guadagnata. Intanto trova un altro gol fondamentale Macco. Attenzione a Denayer. Denayer l'ha giocata. Denayer! Il gol di Denayer! Il 2-1 del Parma con la meraviglia di Denayer che è partito dalla difesa, ha recuperato palla e poi si è inserito. E allora la ribalta il Parma nel giro di tre minuti. Con il gol del centrale difensivo, il gol più impensabile all'incrocio. Palo gol! Un'altra storia meravigliosa per questo Parma-Verona. Anzi, per questo Verona-Parma in cui troviamo il gol della vittoria. Forse, visto che ancora siamo all'ottantatresimo, ma è sicuramente un gol importantissimo. Per Lasagna c'è ancora Denayer che non vuole assolutamente far recuperare il Verona e fischia alla fine l'arbitro di questa partita al Cardio Palma risolta in tre minuti da Macco e Denayer che la ribaltano col gol del nostro centrale. E tre punti meritati o comunque altri tre punti importantissimi nella corsa a scudetto. Allora, ragazzi, siamo sempre a più set su Milano e Napoli che hanno vinto anche loro. Questo episodio è stato molto fortunato perché la partita con la Roma, la partita con l'Ellas sono state due partite fortunate sicuramente. Infatti, a volte siamo fortunati, altre volte sfortunati. Diciamo che si compensano le due cose. Nel prossimo episodio andremo a vedere il ritorno contro il Napoli di Coppa Italia della semifinale, però l'andata abbiamo vinta 3-0 quindi ci sarà sicuramente turnover. Genoa in campionato e poi l'andata della semifinale di Champions contro il Borussia in casa. Queste sono le tre partite che vedremo nel prossimo episodio. Ragazzi, vi invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate di questo episodio e delle partite che abbiamo affrontato e della fortuna che abbiamo avuto così da parlarne insieme. Vi invito anche a lasciare un like e ad iscrivervi al canale nel caso in cui ancora non l'abbiate fatto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi. Ciao!